Cementificazione della costa Emiliano-Romagnola, legambiente lancia l'allarme e boccia nuove costruzioni. Sette chilometri di costa Emiliana cementificati in 23 anni, con infrastrutture urbane, portuali ed industriali. Lo rivela uno studio di legambiente che ha confrontato il paesaggio costiero da Gorino a Cattolica. Restano liberi dalle cemento soltanto 59 chilometri su 141. La provincia di Forrice Sena è quella con il litorale più urbanizzato, dopo Rimini, Ravenna e Ferrara. È la testimonianza di questo consumo del territorio che abbiamo vissuto negli ultimi decenni, un consumo di suolo che oggi per fortuna ha rallentato come intensità ma non è scomparso del tutto. Rimangono ancora molti interessi, molte espansioni urbanistiche che minacciano il nostro paesaggio che poi è un paesaggio non solo dal valore ambientale ma anche dal valore economico visto l'interesse turistico che la nostra regione ha anche per il resto d'Europa. Nella nuova campagna di monitoraggio l'Emilia Romagna è la terza regione toccata da Goletta Verde. A Cervia i volontari hanno manifestato contro la costruzione di un grattacielo adiacente alla spiaggia. Legambiente chiede agli enti locali di escludere dai piani regolatori i progetti di espansione edilizia lungo le coste. Tornare indietro rispetto a quelle che sono le aree che nei nostri piani regolatori sono ancora previste come potenzialmente edificabile. Dall'altra parte anche per ridare in qualche modo ossigeno al settore delle edilizie noi chiediamo che venga messa in atto una grande opera diffusa in questo caso di riqualificazione di questi patrimoni edilizzi degli anni 50, 60, 70 che hanno caratteristiche estetiche ed energetiche ormai superate.